Musica Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruota in pista, giovedì 3 dicembre 2015. Volvo Presentata ieri la nuova generazione della Volvo S90, in attesa dell'anteprima mondiale al Salone di Detroit del prossimo gennaio. La nuova tre volumi della casa svedese è da considerarsi come l'erede della S80 che risale a quasi 10 anni fa, e porta in doto un importante progresso tecnologico, con l'adozione di vari sistemi di assistenza alla guida, delle app e dei dispositivi online su base cloud, che hanno già esordito sulla XC90. Spicca il debutto del Pilot Assist, sistema di guida semiautomatico con elettronica capace di gestire sterzo, freni e acceleratore, anche nei viaggi autostradali e fino a 130 km orari. C'è anche il Large Animal Detect, che riconosce la presenza di animali di grossa taglia su strada. La gamma motori della S90 si articolerà su unità sovralimentate 4 cilindri di 2 litri benzina e diesel. Previsti dunque un T6 AVD da 320 CV, un T8 Twine Gen AVD plug-in da 407 CV, con consumi di 1,9 litri ogni 100 km, ed emissione di CO2 di 44 g per km, un D4 da 190 CV e un D5 AVD da 235 CV. Cambio manuale, ha 6 rapporti e automatico a 8. Lamborghini. Il SUV Urus, atteso per il 2018, adotterà una motorizzazione V8 biturbo da 4 litri, novità Lamborghini, che si è sempre basata su propulsori aspirati V10 e V12. Ferrari. La Ferrari 458 Speciale A, serie esclusiva prodotta in tiratura limitata a 499 esemplari, ha conquistato il primo posto nella categoria delle convertibili sportive in base ad un sondaggio tra i lettori di Autobuild, nell'ambito del concorso online Sports Car of the Year 2015. La vittoria della 458 Speciale A è stata annunciata nel corso dei Autobuild Motorsport e Autobuild Sport Car Race Night, evento tenutosi all'Essen Motor Show. A domani per altre news.